Eccoli qua! Partiti! In vantaggio Prince Douglas con vicino Sbadiglio, seguono Uppoint, Tacma e Indos Bank. Dopo 200 metri di corsa, Prince Douglas e Sbadiglio conducono davanti ad Uppoint con all'interno Tacma a seguire Indos Bank. E' un leggero vantaggio Prince Douglas davanti a Sbadiglio, Uppoint, Tacma e Indos Bank. All'inizio della curva, in vantaggio Prince Douglas davanti a Sbadiglio, Tacma, Uppoint e Indos Bank. Poco prima dell'ingresso in dirittura, in leggero vantaggio Prince Douglas davanti a Sbadiglio, Tacma e Uppoint. I cavalli entrano in dirittura. Con Prince Douglas in leggero vantaggio lungo la corda, davanti a Sbadiglio, a centropista, con più all'esterno Uppoint, seguono Tacma e Indos Bank. E' un leggero vantaggio lungo la corda, Prince Douglas attaccato a centropista da Uppoint, seguono Sbadiglio, Indos Bank e Tacma. E' sempre in vantaggio Prince Douglas attaccato a centropista da Uppoint. E' un vantaggio Prince Douglas, resiste Prince Douglas all'attacco di Uppoint, terzo sbadiglio. La foto della corsa che abbiamo fatto prima era proprio precisa al bacio. Prince Douglas che se entra in dirittura con quattro lunghezze di vantaggio forse si salva, Uppoint che fa lo spunto micidiale finale e lo va ad insidiare. La foto perfetta, bastava un niente per cambiare l'ordine d'arrivo, ma in quelle condizioni Prince Douglas si poteva salvare. Poi Christian ci ha messo un po' del suo, in senso ovviamente positivo, e è chiaro che è andato al traguardo.